L'attenzione sui pericoli in rete per i minori è al massimo livello in questo momento. I casi sono aumentati di quasi il 50% rispetto all'anno precedente, segnando dei numeri importanti. Questo è dovuto alla maggior presenza dei ragazzi in rete, maggior presenza dovuta alla pandemia, allo sforzo fatto per sostenerli anche dal punto di vista di una loro vita sociale. In questo momento è importante stargli vicino. La Polizia Postale e il Ministero dell'Interno stanno investendo risorse, tecnologie, uomini in questo settore, concentrando i propri sforzi e rimodernando ed implementando quella che è l'attività di monitoraggio costante della rete attraverso il commissariato di IPS online, attraverso il potenziamento del CNCPO, dando una importante attenzione al mondo minorile che verrà ribadita anche all'interno della prossima direzione centrale dedicata esclusivamente al crimine cibernetico.